Ciao a tutti, buona vista al nostro Hector Elio della Pegna Valvoera e Spindosa di Santiago de Compostela e Spagnola Eeeh! Abbiamo preso il grande calciatore della Lazio Auk, vi si parli di allegria, vi saluta Ciao, sono Zia Legna, ciao a tutti Seguite il grande Hector Elio Perché fa video interessanti anche, intelligenti e anche molto simpatici Eh, abbiamo preso finalmente Abdelhamid Sabiri C'è un centrocampista del Paterborn 0-7 Grande, e vai, si Abbiamo preso uno di 24 anni, un 24enne Sua opinione signora, cosa ne pensi? Dica, Zia Io penso che hai ragione anche tu Hector Elio Eeeh, si, è molto grande, insomma Grande sei tu e grande anche il giocatore Andiamo tutti a giocare la Lazio Tu che ruolo, tu il fortiere Tu il fortiere, mi raccomando No, io non posso fare niente perché ormai ho gli anni che ho No, non sono proprio giovane e giovane ma manco nemmeno unziana profe Vabbè Non posso, non sono tanto capace dai Sono ragazza, sono una donna e noi vanno lì Sono una donna Non sono una donna No, 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 scherziamo dai Non sono una signora Non sono un pirata, non sono un signore Vabbè dai E quindi ragazzi Terminiamo il video Siamo molto contenti Vai, allegra di pure tu, forza Aspetta, dobbiamo finirla tra un attimo Quindi speriamo che vi sia piaciuto questo acquisto Perché adesso è quasi arrivato anche Cagliecon A presto la vostra Cattore Elio della Pegna Al buone spinto Se ne andiamo con vostra Espanol Aucca, vi si parli Allegria e buona E buona alla prima Anche da Zilegno Ciao Cattore Elio Seguidelo, è grande Ciao Occhiolino, occhiolino Ciao Ciao Ciao